bufera su tina cipollari dopo che nel corso della puntata di oggi di uomini e donne una protagonista ha lasciato lo studio in lacrime durissimi i commenti nei confronti dell'opinionista tina la devono frenare un po con quel linguaggio offensivo che mi meraviglio di maria che non lo fa oggi è stata disgustosa aggredire una ragazza che ha l'età dei suoi figli prendete provvedimenti perché non si può vedere queste scene aggressive commenti pesanti come quello che segue tina ha completamente esagerato e sta storia che a 20 anni non puoi aver subito traumi è una delle cose più tossiche e diseducative dette in tv a 23 anni giulia cecchettin ha subito un ragazzo violento e possessivo e sappiamo com'è andata ma che ne sa tina di cosa ha passato lei qui non è questione di preferenze è questa tossicità da boomer vissuto che fa la paternale ai giovani senza capirne la psicologia uomini e donne beatriz lascia lo studio per colpa di tina cipollari la protagonista è beatriz corteggiatrice di brando scrive blasting news come nel corso dell'appuntamento con il talk show trasmesso questo martedì pomeriggio su canale 5 l'opinionista si è scagliata contro la giovane pretendente di brando scatenando la sua reazione contrariata beatriz ha così abbandonato lo studio in preda ad una crisi di pianto e si è rifugiata dietro le quinte dello show